Di nuovo ciao a tutti ragazzi e dunque benvenuti a questo nuovo video Allora la mia ragazza mi ha fatto un bellissimo regalo, mi ha regalato questo posterone della Juventus Ci sono due poster, uno più piccolo con Paolo Di Bale, un enorme con Gigi Buffon e tutti i ragazzi vestiti in giallo E ho deciso di appenderlo e quindi adesso lo appenderemo assieme Ho deciso ovviamente di mettere quello di Gigi Buffon, è un poster enorme, come potete vedere è un poster di due metri e qualcosa praticamente Ovviamente Buffon in grandezza naturale, non si vede tutto in video, lo vedrete una volta al peso Quindi il poster è qua, il martello è qua e adesso andiamo avanti ad appenderlo Grazie a tutti Grazie a tutti Bene questo è il risultato finale Vedete fa veramente grande ragazzi avete visto è un poster di due metri e mezzo E bene 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 dunque sono contento e soddisfatto del lavoro Bene ragazzi il mio video termina qui e quindi a me non resta che dare appuntamento con i prossimi video del canale Ciao